... Classifica alla mano, sono le pugliesi che meglio hanno cominciato la stagione. Il derby odierno ci darà ulteriori impressioni in vista del proseguo di stagione. Amici di Puglia 5, buon pomeriggio da Gianluca Valente. Oggi si gioca Manfredonia Canosa. C'è Battistoni subito, Fred, il tiro respinto da Lupinella. Il brasiliano in maglia numero 5, seguiamo questa ripartenza di Murgo, palla per Fred, 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 per Murgo! Michele Murgo, due minuti, 17 secondi, il Manfredonia si porta in vantaggio. Fred carica il destro, il tiro, la deviazione di Lupinella per il nuovo calcio d'angolo. Palla recuperata da Ike, palla in mezzo per Gelve, con il petto Pozzo. Respinge un pallone complicato, arriva Girardi, lo serve, Girardi e la palla fuori. Baranauskas più volitivo rispetto alle prime uscite, attenzione, Baranauskas commette un'ingenità colossale, colossale! Ci mette il piede, rimedia il secondo giallo e viene espulso. Battistoni, tentativo, puntata d'improvviso. E Leo Senna ristabilisce la parità al Palas Caloria e 1 a 1. Arriva Mura, la deviazione di Lupinella in corner. Chiede lo scambio a Ike che però tiene palla tutto solo. Senna, palla sul secondo palo per Ike. Ottima la chiusura di Lupoli! Rimessa per il nove giallo-nero, già battuta. Castro Giovanni si gira, attraversa! Senna perde palla in favore di Murgo. Murgo, Murgo, Murgo! Si ripete Murgo! Doppietta per lui! Manfredonia nuovamente in vantaggio, 2 a 1. Apertura per Senna, ha spazio Senna sul secondo palo, perde Elisa! Pallone fuori di poco. Benissimo da Battistoni, tutto regolare. Prova a ripartire Senna che liscia completamente un pallone favorevolissimo. Ancora lo supera. Mancusi palla in mezzo, determinante Ike. Nell'anticipo su Fred. Pressione di Ike. Bella palla filtrante per Girardi. Girardi, Girardi. Palla verso Fred! Joao! Fred scivola, sommerso dai compagni. e la rete del 3 a 1 da parte del Vitulano Dragstore Manfredonia. Castro Giovanni raddoppiato. Fred l'allontana. Il gol! Che gol di Joao Fred! Arriva tutta la panchina del Manfredonia ad esultare per la doppietta personale del capitano che vale il 4 a 1 del Manfredonia. Girardi alza la testa, sale palo al piede centralmente, vi sente Girardi. Girardi, Girardi! Vi sente Girardi! 5 a 1 Vitulano Dragstore Manfredonia. In gol anche il numero 11. Battistoni. Castro Giovanni per Ike. Il tiro! La deviazione di Iuri Pozzo. Sempre più protagonista in questo secondo tempo. Ma è finita, suono della sirena. Vitulano Dragstore che batte 5 a 1. Il Canosa porta a casa la quarta vittoria consecutiva e mantiene il primato in classifica. grazie a tutti. La Rhinocina